buonasera amici buonasera amiche siamo qui con un nuovo gadget appena uscito su amazon e noi lo recensiamo subito forse anche in anteprima non ho guardato se altri hanno fatto un video allora su amazon sembra grande in realtà è piccolo come un direi come un biscotto oreo è leggero niente di particolare c'è questo led con una lucina celeste chiaro non ci sono pulsanti e viene appunto attaccato alla presa usb come tutti gli altri vicino a lui ho il gadget che io utilizzo normalmente che secondo me ha molte affinità con lui quindi io direi che sono fratelli se non gemelli quanto meno potrebbero essere cugini come vedete io sto facendo il video con il mio samsung sono connesso via wireless al mio sistema multimediale e sono visibili le copertine spotify nel mio display e inoltre posso anche gestire le telefonate con il mio sistema multimediale e non per forza devo utilizzare la funzione chiamate presente su android auto questo non è scontato perché come io ho detto in altri video se il vostro gadget ad esempio sia esso carlink kit 4.0 sia esso 8 cast u2x questi si collegheranno il vostro smartphone android via wireless alla vostra auto ma lo faranno utilizzando il modulo carplay quindi la vostra auto vedrà come collegato un iphone e almeno nel mio caso vengo sì collegato con android auto via wireless ma sembrando alla macchina che è collegato un iphone io perdo qui le copertine spotify e la possibilità di chiamare con i miei con i miei comandi dell'auto originale devo per forza utilizzare la funzione auto qui la funzione telefono mentre con questo gadget con questo gadget con carlink kit a 2a con il car saifi con a wireless è come se voi aveste collegato alla vostra auto via cavo lo smartphone e quindi non perdete nessuna nessuna funzione questo è l'amico anthony robbins che che salutiamo per l'occasione avete visto la notifica è arrivata regolarmente allora come dicevo è piccolo si si collega velocemente quando salite a bordo la vostra auto parte parte si collega velocemente android auto secondo me lui si collega un pochino prima per l'aggiornamento le procedure sono identiche addirittura l'ip nel quale va inserito per fare l'aggiornamento è lo stesso la schermata è la stessa per fare gli aggiornamenti ota quindi a me viene il sospetto che o l'hardware dentro è lo stesso comunque molto simile io ho fatto un aggiornamento nella descrizione del video vi metterò anche una guida da me fatta in italiano per fare gli aggiornamenti ota non sono difficili ma comunque ho visto che molti di voi mi chiedevano come farli quindi vi metto una una guida costano più o meno lo stesso prezzo sugli 80 euro quindi secondo me vi conviene comprare quello dei due quello che in quel momento costa costa meno perché sono praticamente identici sono praticamente quasi simili vi metterò chiaramente in descrizione il link io lo sto usando da qualche giorno non ho avuto problemi di sorta anzi ho visto che un po è migliorato dopo che ho fatto l'update i tempi di collegamento direi che tutto perché tanto le altre cose le conoscete insomma vedete che c'è cool walk che funziona non ci sono problemi con con l'assistente vocale è come se voi foste collegati alla vostra auto via cavo invece siete collegati in wireless direi che per adesso ci salutiamo e a salutiamo chiaramente pasqui che si ospita del suo canale youtube e gli amici del canale youtube revotech ciao a tutti